studio di dicembre 2014 i brani di gosho utilizzati in questa lezione il ricco sudatta ti insegnerò come diventare facilmente un buddha insegnare qualcosa un altro è come oliare le ruote di un pesante carro così che possano girare o come far galleggiare una barca sull'acqua così che possa procedere senza difficoltà il modo per diventare facilmente un buddha non è niente di straordinario è come dare dell'acqua a un assetato in tempo di siccità come dare del fuoco a una persona intirizzita dal freddo o come dare a un altro l'unico esemplare che si possiede di qualcosa oppure offrire in elemosina ciò da cui dipende la propria vita tu somigli già a un seguace del sutra del loto come una scimmia somiglia all'uomo o una torta di riso somiglia alla luna per aver protetto in questo modo le persone di azuara la gente di questo paese ti considera un ribelle come masakado dell'era shohei 931 938 o come sadato dell'era tenji 1053 1058 e ciò semplicemente perché hai dedicato la tua vita al sutra del loto ma gli dèi celesti non ti considerano affatto come un uomo che abbia tradito il suo signore inoltre poiché al tuo piccolo villaggio sono stati imposti numerosi oneri pubblici tu stesso non hai il cavallo che dovresti montare e tua moglie e i tuoi figli non hanno gli abiti che dovrebbero indossare nonostante tale situazione preoccupato che il devoto del sutra del loto possa soffrire fra le nevi di queste montagne e possa mancare di cibo ha inviato mille monete la tua offerta è simile a quella della povera donna che dette a un mendicante la veste che divideva con suo marito o a quella di rida che dette un pratica buddha tutto il miglio contenuto nel suo vaso è ammirevole lezione di Daisaku Ikeda infondere coraggio speranza e ispirazione a ogni persona quando il mio mentore il secondo presidente della Soka Gakkai Josai Toda parlava con i giovani condivideva spesso le sue penetranti intuizioni su vari fatti storici e sottolineava l'importanza di formare persone capaci per il futuro di Kosen Rufu faceva notare che in alcuni periodi della storia l'assenza di individui capaci aveva portato alla caduta di una nazione o di una civiltà mentre in altri la presenza di molte persone del genere aveva prodotto un'epoca di prosperità e fioritura e che certe specifiche crisi erano state superate grazie all'intervento di persone capaci e di talento parlando con noi ribadiva che la grande impresa di Kosen Rufu richiede energie fresche e passione per creare una nuova epoca perciò è essenziale che i giovani comincino ad agire bisogna credere nel potere della gioventù quando compì i 25 anni all'inizio di gennaio 1953 Toda mi nominò responsabile della prima squadra della divisione giovani uomini fu allora che ebbe inizio l'impresa per realizzare il suo scopo la conversione di 750 famiglie 750 mila famiglie il mio maestro sta pregando affinché appaia un flusso costante di discepoli autentici mi dissi e feci questo voto io raccoglierò una grande moltitudine di giovani discepoli e li radunerò davanti al presidente Toda la prima squadra della divisione giovani uomini allora contava solo 337 membri ma alla fine dell'anno il numero triplicò e superò i mille dal momento della mia nomina mi concentrai sull'obiettivo di trovare al nostro interno persone capaci di svolgere ruoli di responsabilità nel movimento anzi per meglio dire tutti i membri ai miei occhi risplendevano di tale immenso potenziale condividere problemi e lotte perciò nello sforzo di conoscere ogni membro della divisione giovani feci in modo di trovare il tempo non solo di parlare con loro prima e dopo le riunioni ma anche di visitarli o incontrarli personalmente per ascoltare ciò che avevano da dire e meglio li conoscevo più profondamente pregavo affinché riuscissero a svilupparsi come persone capaci per cose in rufo e a forgiare legami solidi con il loro maestro il presidente toda a volte andavamo insieme ai bagni pubblici o li invitavo a casa mia ascoltavamo dei dischi e conversavamo mentre si mangiava ancora oggi quei giorni rimangono dei cari ricordi ho sempre cercato di fare il massimo mi impegnavo anime e corpo nell'incoraggiare sinceramente ogni persona che avevo di fronte condividevamo i nostri problemi e recitavamo insieme diffondevamo insieme gli insegnamenti del daishonin e lottavamo fianco a fianco per cose in rufo la realizzazione di una famiglia armoniosa di cose in rufo nella propria comunità e della pace nel mondo iniziano da una singola persona che si alza in piedi con speranza con speranza e coraggio è una formula immutabile la crescita e la prosperità hanno luogo laddove sono state formate persone capaci è un principio eterno in questa lezione discuteremo lo scritto del daishonin il ricco sudatta indirizzato al giovane discepolo nanjo tokimitsu e studieremo lo spirito con il quale niciren si dedicava a far crescere individui capaci affinché un flusso costante di giovani nanjo tokimitsu possa emergere nei luoghi in cui viviamo e svolgiamo le nostre attività buddiste incoraggiare un seguace che sta lottando in una situazione difficile questa lettera fu inviata nanjo tokimitsu nel dicembre 1280 durante l'anno precedente il 1279 la persecuzione di azuara aveva raggiunto il culmine con l'arresto e la successiva condanna a morte dei vari contadini che credevano negli insegnamenti del daishonin tale persecuzione era iniziata proprio a causa del numero incredibile di persone che si erano convertita questi insegnamenti nella zona di fuji della provincia di suruga attualmente parte della prefettura di shizuoka grazie agli intensi sforzi nella propagazione dei credenti locali guidati da nico shonin si pensa che al momento della stesura della lettera la situazione a suruga fosse piuttosto tesa nelle fasi cruciali della persecuzione di azuara nanjo tokimitsu aveva protetto i suoi compagni di fede senza preoccuparsi della sua incolumità personale aveva accolto in casa vari credenti e con il coraggio che si addice a un giovane si era sforzato di tenerli al sicuro ma le autorità secolari e i preti influenti delle scuole buddiste tradizionali della zona non avevano di certo accolto con favore gli sforzi di tokimitsu per difendere gli insegnamenti del daishonin come scrive quest'ultimo i preti locali e i loro seguaci fanno reclami contro i credenti di azuara e appena possono cercano di ostacolarci proteggere credenti di azuara infatti all'epoca in cui fu scritta questa lettera tokimitsu stava attraversando gravi difficoltà economiche a causa delle pesanti tasse che le autorità avevano imposto sulla sua tenuta e della richiesta che fornisse gratuitamente uomini per svolgere opere pubbliche ma invece di preoccuparsi per se stesso tokimitsu si preoccupava del benessere del daishonin all'approssimarsi di un nuovo anno sulle montagne di binobu coperte di neve e così gli aveva inviato un'offerta sotto forma di monete in questa lettera il daishonin esprime la sua gratitudine per il sincero sostegno del suo giovane discepolo ti insegnerò come diventare facilmente un buddha insegnare qualcosa a un altro è come oliare le ruote di un pesante carro così che possano girare o come far galleggiare una barca sull'acqua così che possa procedere senza difficoltà il modo per diventare facilmente un buddha a quel tempo i seguaci del daishonin nella provincia di suruga erano ancora bersagliati dagli incessanti assalti dei tre ostacoli e dei quattro demoni e dei tre potenti nemici del buddismo il daishonin sperava che tokimitsu come discepolo di quella zona costruisse una fede incrollabile e rimanesse saldo nella sua pratica buddista in modo da trionfare sulle avversità in questa lettera gli dice che c'è un modo per diventare facilmente un buddha insegnare come diventare un buddha significa mettere in grado ogni persona di incamminarsi infallibilmente sul sentiero che conduce alla felicità e alla vittoria e la strada attraverso la quale chiunque può agevolmente diventare felice questo è il percorso che il daishonin dice insegnerà a tokimitsu e al giovane discepolo che stava affrontando grandi difficoltà niente sarà apparso più gratificante in una lettera dell'anno precedente 1279 il daishonin loda tokimitsu per i suoi coraggiosi sforzi nella persecuzione di azuara chiamandolo il saggio di ueno e gli dice è mio desiderio che tutti i miei discepoli formulino un grande voto la porta del drago rispondendo all'incorraggiamento del maestro tokimitsu si era sforzato sinceramente come discepolo dal punto di vista oggettivo era sicuramente sulla strada giusta per conseguire la buddità ma tutti i giovani sono in ansia rispetto a ciò che li attende se ne preoccupano proprio perché vogliono migliorare crescere superare anche di poco la loro condizione presente sostenere i giovani nel loro desiderio sincero e pure di crescere aiutarli a esprimere pienamente il loro potenziale rispettarne i desideri di sviluppo personale lodarli e incoraggiarli in tal senso questi sono gli elementi chiavi per formare i giovani in questa lettera il daishonin ci fa vedere che non si può insegnare qualcosa agli altri cercando di costringerli o dando loro direttive da una posizione di superiorità quando si oliano le ruote un carro può avanzare nonostante il carico pesante quando si è a bordo di una barca che galleggia si può procedere facilmente sull'acqua questi sono esempi di come sostenere o facilitare un armonioso movimento in avanti in altre parole il punto importante è rendere facile il percorso di una persona pur riconoscendo al tempo stesso che avanzare concretamente dipende da lei non siamo noi ad assumerci le sfide che sta a quell'individuo superare allo stesso modo lo scopo dell'educazione ovvero come dice il daishonin insegnare qualcosa a un altro consiste nel formare persone che abbiano la forza di affrontare le sfide della vita nel buddismo è la stessa cosa ogni persona deve modellare il proprio destino lo scopo del buddismo è semplicemente allenare persone forti in grado di farlo tutti possiedono il nobile stato vitale della buddità tutti possono avanzare trionfanti sul cammino supremo della felicità quando ci risvegliamo al fatto che abbiamo dentro di noi lo stato vitale della buddità vasto come l'universo non c'è difficoltà che non possiamo superare quando manifestiamo la nostra forza intrinseca possiamo affrontare con coraggio gioia e fiducia in noi stessi i nostri compiti quotidiani lo stesso vale per il principio della trasformazione del karma ognuno di noi deve affrontare personalmente il proprio karma o destino una volta che sappiamo di avere dentro di noi il potere di cambiare qualsiasi karma possiamo trovare un significato nelle avversità che affrontiamo possiamo trasformare il karma in missione guida educazione formazione e sostegno in questo contesto possiamo interpretare l'oliare le ruote del carro e il far galleggiare una barca sull'acqua come chiavi importanti per sviluppare persone capaci da toda ha presi quattro punti fondamentali per formare persone capaci guidare educare allenare e sostenere possiamo definirli così primo guidare significa aiutare le persone a sfidarsi per superare le proprie debolezze e paure in modo da diventare felici secondo educare significa dare l'esempio e agire insieme terzo allenare significa dare fiducia affidare compiti offrire alle persone opportunità di mettere in pratica ciò che hanno imparato quarto sostenere significa riconoscere gli sforzi delle persone che abbiano avuto successo o meno lodandole e prestando attenzione a ognuna di loro supponiamo per esempio che nel nostro settore o nella nostra zona ci siano i giovani che si sentono sopraffatti da qualche difficoltà o problema concreto possiamo parlare con loro dei benefici della pratica del buddismo di Nichiren in modo che trasformino la mancanza di fiducia in se stessi e compiano la propria rivoluzione umana possiamo dire loro che sono in grado di tirar fuori lo stesso potere del buddha che tutti abbiamo dentro di noi aiutandoli a raccogliere il loro coraggio questo è guidare possiamo unirci a loro quando parlano del buddismo i loro amici o svolgono altre attività per cosenrufu usando queste occasioni per essere un esempio concreto da seguire questo è educare inoltre è importante che i giovani si facciano un'idea chiara su come portare avanti le attività sentano di essere in grado di farlo e comincino concretamente ad agire se pensano che ciò vada oltre le loro capacità esiteranno anche a provarci cominciare a intraprendere tali attività di propria iniziativa è l'inizio dell'allenamento infine credere nelle capacità intrinsiche dei giovani e incoraggiarli sinceramente così che possano svilupparsi senza vincoli questo è sostenere solo quando questi quattro pilastri sono solidamente radicati si potranno far crescere persone capaci per cosenrufu l'efficacia di questi quattro punti dipenderà in ultima analisi anche dalla misura in cui coloro che si occupano di formare gli altri riescono a sviluppare la propria vita e a progredire nella propria rivoluzione umana non occorrono abilità particolari per guidare e formare gli altri ciò che conta è l'atteggiamento di impegnarsi per crescere insieme quando recitiamo per la crescita degli altri e dialoghiamo regolarmente con loro possiamo crescere e svilupparci insieme nel buddismo far crescere persone capaci non significa costringerle in un modello precostituito forzandole ad adattarsi a qualche nozione preconcetta di come dovrebbe essere la persona capace ideale ma è invece permettere all'individualità di ognuno di risprendere al massimo il fondamento delle attività della soka gakkai per far crescere persone capaci è mettere in grado ciascuno di dimostrare pienamente il proprio specifico potenziale allora armonizzando l'individualità di ogni persona nello spirito di diversi corpi stessamente possiamo far avanzare cosenrufu mirando alla nostra felicità e a quella degli altri ognuno di noi può manifestare la propria nobile missione come bodhisattva della terra il modo per diventare facilmente un buddha non è niente di straordinario è come dare dell'acqua a un assettato in tempo di siccità come dare del fuoco a una persona intirizzita dal freddo o come dare a un altro l'unico esemplare che si possiede di qualcosa oppure offrire in elemosina ciò da cui dipende la propria vita la chiave per conseguire la buddhità il modo per diventare facilmente un buddha non è niente di straordinario dice il daishonin primo scrive è offrire agli altri ciò di cui hanno bisogno per esempio dare acqua a un assettato o accendere un fuoco per chi è intirizzito dal freddo anche nella pratica della donazione portata avanti dal bodhisattva è quando si fornisce a una persona qualcosa di cui ha bisogno che l'atto di offrire diventa significativo secondo il daishonin afferma che il modo per diventare facilmente un buddha consiste nell'offrire qualcosa di cui si possiede un unico esemplare o qualcosa senza la quale non si potrebbe rimanere in vita entrambe queste frasi si possono interpretare come lodi alla profonda sincerità di nanjo tokimitsu nel fare offerte al daishonin michiren sta dicendo che il dono ricevuto dimostra che tokimitsu si sta già impegnando nella pratica per diventare un buddha sta già percorrendo il cammino dell'illuminazione la gente tende a pensare che conseguire la buddha richieda pratica austere e difficili come quelle svolte dal ragazzo delle montagne nevose che era disposto a dare il suo bene più prezioso cioè la vita per amore della legge davanti a una simile visione dell'ottenimento dell'illuminazione le persone dell'ultimo giorno della legge tendono a convincersi che sia una strada al di là delle proprie possibilità ma il daishonin afferma tuttavia per quanto riguarda il conseguimento della buddhità le persone comuni tenendo bene in mente le parole determinazione sincera diventano buddha l'offerta del riso quando quando offriamo qualcosa di prezioso e importante per noi il nostro spirito dell'offerta è lo stesso di quello del ragazzo delle montagne nevose per noi ciò significa promettere di realizzare cose in rufo nella nostra vita quotidiana mentre viviamo pienamente la nostra esistenza così facendo stiamo dedicando la vita al buddismo e quindi facciamo emergere lo stato di buddità dentro di per tornare a questa lettera l'offerta di nanjo tokimitsu rappresenta la sua dedizione alla pratica buddista e quindi come dice il daishonin è garantito che conseguirà la buddità le azioni di re colore dorato e di sudatta nella parte successiva al passo citato il daishonin rivela attraverso le storie del re colore dorato che era il buddha shakiamuni in un'esistenza precedente ed è ricco sudatta un seguace laico di shakiamuni che l'atto di offrire qualcosa di prezioso permette di accumulare incommensurabili benefici e buona fortuna nella prima storia si narra del popolo di una terra governata dal re colore dorato che stava soffrendo a causa della carestia provocata da una forte siccità il re che desiderava profondamente salvare gli altri offrì alla popolazione l'ultima razione di riso rimasta e come per rispondere alla compassione del re le divinità celesti fecero cadere la pioggia salvando la vita di tutti gli abitanti nella seconda storia si narra di un uomo ricco di nome sudatta che diventò povero e poi nuovamente ricco per sette volte nella settima occasione in cui cadde in miseria offrì con gioia il suo ultimo riso a shakiamuni e i suoi discepoli il beneficio di quell'atto altruistico fu di diventare l'uomo più ricco di tutta l'india il cuore come afferma il daishonin è davvero la cosa più importante qualunque sia la difficoltà che stiamo affrontando per quanto dura possa essere la nostra situazione non dobbiamo mai essere sconfitti nel cuore non serve disperarci sminuirci o sentirci inadeguati il daishonin insegna che dobbiamo semplicemente fare del nostro meglio nel nostro modo per il bene del buddismo e la felicità degli altri i tesori del cuore che accumuliamo così facendo arricchiranno la nostra vita ci porteranno felicità e benefici e faranno sorgere una fortuna insuperabile certamente tokimitsu fu profondamente toccato da come il daishonin lo aveva incoraggiato citandogli le storie del re colore dorato e di sudatta il daishonin gli dice da questi esempi dovresti comprendere tutte le altre situazioni sia il re colore dorato che era disposto a dare la sua vita per il popolo sia sudatta che fece offerte al buddha e ai suoi discepoli nonostante fosse povero vissero con uno spirito di dedizione altruistica uno spirito in sintonia con quello del giovane tokimitsu che lottò al fianco del daishonin in un tempo di grandi avversità senza mai arretrare di un solo passo ogni avversità è un punto di svolta per elevare il nostro stato vitale senza dubbio leggendo questa lettera tokimitsu avrà sentito che il suo maestro comprendeva perfettamente il suo cuore il giovane stava vivendo un periodo di gravi privazioni ma lottando con determinazione in un momento così difficile avrebbe potuto ottenere fortuna e benefici incommensurabili avrebbe potuto percorrere la grande strada che conduce alla rivelazione della condizione vitale del buddha non doveva preoccuparsi sapendo di trovarsi a un punto cruciale nel quale poteva elevare notevolmente la sua condizione vitale avrà provato una forte emozione un profondo senso di determinazione niente è più meraviglioso di avere un maestro il daishonin aveva continuato a vegliare sulla crescita di tokimitsu sin da quando lo aveva incontrato da ragazzo gli era stato vicino quando suo padre nanjo io e shichiro e suo fratello maggiore nanjo shichiro taro erano morti rispettivamente nel 1265 nel 1274 all'inizio dell'anno in cui il daishonin gli inviò questa lettera tokimitsu aveva gioito per la nascita del suo figlio maggiore e aveva sofferto per la morte del fratello minore verso il quale anche il daishonin nutriva grandi speranze la vita ha i suoi alti e bassi le sue vette e le sue valli oscure basandosi sulla prospettiva illuminata del buddismo e sulle lezioni offerte dalle storie del re colore dorato e di sudatta il daishonin insegna a tokimitsu che per quanto dolorosa e difficile sia la situazione chi si impegna assiduamente otterrà un elevato stato vitale comportarsi con compassione buddista significa essere attenti ai sentimenti delle persone che stanno lottando fare tutto ciò che possiamo per alleviare anche solo un poco il dolore di quei cuori colmi di tristezza che si disperano per le amare prove della vita significa dare speranza a coloro che stanno sforzandosi duramente in circostanze difficili dare coraggio a chi si sente a un punto morto e non sa più come andare avanti significa insegnare dimostrare e risvegliare gli altri al fatto che possiedono dentro di sé il potere di superare qualsiasi problema e metterli in grado di attingere concretamente a quel potere anche questi sono punti importanti per far crescere persone capaci noi cerchiamo di aiutare le persone a far emergere la loro forza interiore per rimuovere le cause della sofferenza e affrontare le sfide della vita quotidiana con gioia e ottimismo cerchiamo di aiutarle a sentire che alla fine sicuramente vinceranno quando nel profondo del loro essere si risveglia questa convinzione saranno in grado di agire con coraggio e determinazione questa è l'educazione che nanjo tokimitsu ricevette dal daishonin che gli permese di condurre una vita piena di significato tu somigli già un seguace del sutra del loto come una scimmia somiglia all'uomo o una torta di riso somiglia alla luna per aver protetto in questo modo le persone di azuara la gente di questo paese ti considera un ribelle come masakado dell'era shoei 931 938 o come sadato dell'era tenji 1053 1058 e ciò semplicemente perché hai dedicato la tua vita al sutra del loto ma gli dei celesti non ti considerano affatto come un uomo che abbia tradito il suo signore la protezione delle divinità celesti è assicurata qui il daishonin afferma che tokimitsu avendo protetto i suoi compagni di fede durante la persecuzione di azuara con il suo stesso spirito assomiglia a un devoto del sutra del loto naturalmente non ci sarebbe stato niente di strano definire tokimitsu un devoto del sutra del loto ma possiamo presumere che qui il daishonin usi il verbo assomigliare per incoraggiare il giovane discepolo a crescere ulteriormente il daishonin cita anche gli ardui sforzi di tokimitsu per proteggere i compagni di fede durante la persecuzione di azuara e aggiunge che però la gente di suruga di certo lo considera simile ai guerrieri tahira no masacado o abe no sadato che furono uccisi come traditori dell'impero nelle ere passate secondo il modo di pensare feudale infatti anche coloro che erano nel giusto se disobbedivano al loro signore feudale o al sovrano stavano tradendo il codice morale generalmente accettato ma il daishonin incoraggia con fiducia tokimitsu dicendogli che poiché tutte le sue azioni erano a beneficio del sutra del loto sicuramente le divinità celesti ne avrebbero tenuto conto e lo avrebbero protetto questo passo dimostra perfettamente con quanta chiarezza e accuratezza il daishonin avesse compreso le circostanze in cui si trovava tokimitsu sapere che il maestro aveva capito così bene la sua situazione deve essere stato di grande conforto per il giovane discepolo e la dichiarazione del daishonin che le benità celeste lo stavano proteggendo avrà senza dubbio rafforzato la sua convinzione dare guide ricche di umanità e attente alla situazione degli altri fondate sul desiderio di abbracciarli e sostenerli con calore contribuisce sicuramente alla crescita di persone capaci questo principio è assolutamente valido anche oggi la gioventù è un'età piena di preoccupazione e ansie se i giovani hanno qualcuno che li capisce e li incoraggia possono affrontare i loro problemi con fiducia in se stessi e far emergere liberamente il proprio potenziale interiore spero che gli uomini e le donne della Soka Gakkai veglino calorosamente sui giovani e li incoraggino costantemente coloro che allevano individui capaci per cose in rufu sono i veri tesori del nostro movimento inoltre poiché al tuo piccolo villaggio sono stati imposti numerosi oneri pubblici tu stesso non hai il cavallo che dovresti montare e tua moglie e i tuoi figli non hanno gli abiti che dovrebbero indossare nonostante tale situazione preoccupato che il devoto del sutra del loto possa soffrire fra le nevi di queste montagne e possa mancare di cibo ha inviato mille monete la tua offerta è simile a quella della povera donna che dette a un mendicante la veste che divideva con suo marito o a quella di rida che dette a un pratica buddha tutto il miglio contenuto nel suo vaso è ammirevole incoraggiare anche i membri della famiglia sfruttando la loro posizione di potere le autorità imposero pesanti tasse punitive sulla piccola proprietà di tokimitsu richiedendogli inoltre di fornire uomini per lavori non pagati tutto ciò ridusse la sua famiglia in una condizione di povertà tale che pur essendo un membro della classe guerriera tokimitsu non aveva un cavallo da montare e non poteva permettersi abiti adeguati per la moglie e i figli eppure anche in tali misere circostanze il giovane cercò continuamente di mandare offerte per sostenere il daishonin a minobu in questa lettera il daishonin scrive che tokimitsu senza dubbio preoccupato per le sue condizioni di indigenza all'approssimarsi del nuovo anno era riuscita a racimolare un migliaio di monete e a inviargliele come offerta e gli esprime nuovamente il suo grande apprezzamento lodandolo profondamente per la sua devozione in quest'ultimo brano possiamo notare come il daishonin sottolinei con calore non solo gli sforzi di tokimitsu ma anche quelli di sua moglie che leggendo la lettera deve aver percepito tale considerazione gentile espressa in frasi come tua moglie e i tuoi figli e la povera donna e suo marito nella parabola buddista che egli cita rassicurando i membri della famiglia di tokimitsu il daishonin permise al discepolo di lottare con ancora più forza tali espressioni piene di premura riflettono l'insegnamento del daishonin la cui luce compassionevole abbraccia tutte le persone portando loro pace e conforto e colmandole di energia e vitalità tener conto delle circostanze individuali è una componente essenziale nel far crescere persone capaci hanno qualche preoccupazione com'è il loro ambiente stanno lottando con qualche problema di cui nessuno è a conoscenza una simile preoccupazione per la felicità e il benessere di ogni persona sorge dal senso di responsabilità alla base del quale c'è la compassione recitare namio renge kyo ci permette di sviluppare la capacità di immaginare ciò che gli altri stanno vivendo la soka gakkai sta portando avanti la filosofia umanistica di nichiren daishonin per questo è stata capace di costruire una rete mondiale dedita al bene un'organizzazione che genera persone capaci toda soleva dire che le persone capaci non hanno niente di intrinsecamente speciale o diverso dagli altri si tratta solo di lucidare far brillare le loro capacità proprio in questo modo egli prese me un giovane comune e mi allenò a fondo mi sono dedicato con tutto il cuore a far crescere persone capaci animato dal desiderio di ripagare il debito di gratitudine nei confronti del mio maestro e sono determinato a fare tutto il possibile per proseguire tale opera nel futuro decidete che coloro che hanno meno esperienza di voi hanno la potenzialità di superarvi e allenateli in modo che vi superino questo è lo spirito che i membri anziani nella fede dovrebbero avere nei confronti dei più giovani questa è la tradizione della soka gakkai lo spirito fondamentale dei responsabili soka è mettere in grado tutte le persone di diventare felici di crescere come individui eccellenti di impiegare al massimo i propri punti di forza il proprio potenziale dopo la campagna di osaka del 1956 toda mi disse se il movimento di cosenrufu continua a progredire produrremo molte persone di talento in ogni ambito della società ci saranno membri della soka gakkai che lavoreranno con dedizione in ogni campo per la prosperità della società e la pace dell'umanità in altre parole la soka gakkai assumerà un ruolo centrale nel sostenere la creazione di pace e cultura per tutta l'umanità diventerà una grande istituzione educativa in grado di formare individui capaci allo scopo di raggiungere questi obiettivi il nostro compito essenziale è creare persone di carattere il nostro movimento per la rivoluzione umana si diffonderà in tutto il mondo proprio come il mio maestro aveva previsto adesso in tutto il globo stanno emergendo membri capaci io dichiaro insieme a tutti i miei amati compagni di fede che niente potrà fermare il poderoso flusso di persone capaci che stanno emergendo nella soka gakkai per dedicarsi a cosenrufu nel mondo i membri della divisione giovani stanno realizzando ambienti di fiducia in famiglia nella loro comunità e nella società e arriveranno a rivestire un ruolo centrale per la vittoria di tutte le persone il nostro movimento per la rivoluzione umana sta estendendosi su scala globale i giovani soka continueranno a emergere in numero sempre crescente come protagonisti della nuova era di cosenrufu mondiale